Buongiorno a tutti. Oggi, giovedì 24 ottobre, è una giornata molto importante per l'Istituto Leardi, ma anche per la città di Casale Monferrato, perché è stato inaugurato ufficialmente il nuovo liceo artistico ad indirizzo multimediale. Per me, che l'avevo frequentato quando già esisteva a Casale negli anni Ottanta, è un'occasione anche di nostalgia. Finalmente torna il liceo artistico a Casale con un indirizzo nuovo, una curvatura che si avvicina di più al mondo della multimedialità e quindi anche al corso grafica e comunicazione che esiste già da molti anni qui nell'Istituto Leardi. Allora, in questa giornata inaugurale, ricca di eventi, di interventi di relatori interessanti, hanno partecipato innanzitutto Roberto Morbelli, che è l'erede della famiglia e ha raccontato anche alcune amminità e curiosità stucchevoli. Dopodiché, a parte il saluto delle autorità, del sindaco, il vescovo di Casale, sono intervenuti i relatori veri e propri della mattinata, in cominciare da Aurora Scotti, già docente di storia dell'architettura presso il Politecnico di Milano, che ha fatto una lezione molto interessante sul rapporto tra Morbelli, la città di Milano e la colma di Rosignano. Dopo abbiamo avuto il piacere di ascoltare il nostro ex collega Gabriele Angelini, storico, oltre ad essere stato docente di storia dell'istituto, anche storico di professione, che ha parlato invece della scuola di disegno, che è nata nell'istituto Leardi nel 1901. Il titolo del suo intervento era Disegnare a Palazzo Leardi, tracciare linee nel futuro. Al termine, l'intervento di Corrado Rendo, dottore, medico del lavoro e medico del lavoro anche qui all'istituto, che ha fatto una lezione molto interessante sul rapporto tra i contadini, la salute e la malattia nel XIX secolo attraverso la lettura dei quadri, delle opere d'arte. Ha dato modo anche di leggerci delle statistiche interessanti sul rapporto natalità-mortalità tra 1861 e gli anni di oggi. Al termine dell'intervento del dottore Rendo, c'è stato l'intervento del professor Denis Girogero, storico, di chiara fama, che ha parlato invece dei ricordi e curiosità, una lezione molto divertente anche nell'archivio di Angelo Morbelli. Dopodiché concludere questa mattinata, prima dell'inaugurazione del liceo vero e proprio, c'è stato l'intervento del collega professor Celoria, Ilenio Celoria, che ha parlato invece del rapporto tra arte, fotografia e luce. È stata una mattinata interessante, emozionante, stimolante e quindi non resta che ringraziare a tutti e augurarci che il liceo artistico, appena rinato, abbia lunga, lunga vita. Grazie a tutti.